Sono 25 le persone attualmente ricoverate per coronavirus negli ospedali dell'azienda Marche Nord. 11 si trovano in terapia intensiva, 8 in semi-intensiva e 6 nei reparti non intensivi. Di questi un paziente aveva ricevuto una dose di vaccino in 4, tutti over 80, avevano concluso il ciclo vaccinale, mentre i restanti non si erano sottoposti alla profilassi. Dimostra quello che comunque la letteratura ci sta dicendo a livello mondiale, che la vaccinazione protegge, però purtroppo il vaccino non dà mai una protezione del 100%, perché ogni individuo, e la medicina è così, non è una scienza esatta, ma è una scienza che si fa sui grandi numeri, perché ogni organismo reagisce in maniera diversa e ce lo dimostra. E siamo perfettamente in linea con i dati nazionali e con i dati internazionali. Per quanto riguarda le fasce di età, ha precisato Berselli, i degenti vaccinati sono anziani, mentre i non vaccinati sono più giovani, tra loro anche due persone di 41 e 43 anni. Al direttore poi abbiamo chiesto informazioni sul rapporto rischi-benefici e sui casi registrati di effetti collaterali, anche alla luce della miocardite che ha colpito Alessandro Baldini, DJ di Mondolfo, ricoverato a Santa Croce di Fano dopo aver ricevuto sabato scorso la seconda dose di Moderna. Innanzitutto la notizia positiva che è completamente migliorato, quindi il miglioramento è stato immediato e totale alla prima terapia, quindi la prognosi è buonissima e non ci saranno problemi. Il discorso è che come in tutte le vaccinazioni i rischi-benefici ci sono sempre, l'importante è che ci sia uno sbilanciamento molto elevato dei benefici verso i rischi. Questo è un evento avverso statisticamente atteso, non è il primo che viene registrato a livello mondiale. Se vogliamo giocarcela sui numeri, noi raccogliamo anche le segnalazioni avverse dei pazienti che arrivano al pronto soccorso come reazioni avverse sono maggiori rispetto a quelli che sono stati vaccinati solo nel nostro centro vaccinale ospedaliero. Noi come centro vaccinale ospedaliero a oggi abbiamo fatto circa 93.000 vaccinazioni, in totale le segnalazioni di eventi sono state 124. Matematicamente è una cosa che vuol dire che è lo 0,1% e già questo ci va a dire. L'altro discorso che dobbiamo dire è che non tutte queste 124 reazioni sono reazioni importanti. Reazioni importanti intendo la febbre importante, la linfadenopatia, la miocardite che si può sviluppare. Queste sono molto più rare. La maggior parte delle segnalazioni sono reazioni lievi, dove abbiamo la febbre, il dolore all'articolazione e cose di questo tipo. Quindi in realtà, e torno a dire, la statistica in questo caso funziona, è esattamente la stessa percentuale riportata a livello nazionale e mondiale.